Era una partita molto difficile, non bella, non giocata bene da entrambe le squadre però questi tre punti sono veramente troppo importanti per noi. L'ambiente non era dei più allegri, dei più tranquilli e dei più rilassati sempre consapevoli comunque che le nostre partite, le nostre prestazioni le avevamo fatte caso vuole che magari quando giochi male vinci e quando fai le prestazioni migliori non porti a casa nessun punto però andiamo avanti così, preferiamo fare brutte prestazioni e portare a casa i tre punti. Abbiamo la partita forse ancora più fondamentale di quella col Siena e è veramente importante dobbiamo assolutamente ripeterci, continuare questa striscia appena iniziata, portare a casa tre punti assolutamente.